Erano 7.000, forse di più, le candele che hanno illuminato Piazza San Marco per ricordare Valeria Solesin e tutte le persone che come lei hanno perso la vita negli attentati di Parigi. Una piazza strapiena per essere vicini a loro, perché quello che è accaduto potrebbe accadere ancora ad ognuno di noi. Potresti essere tu alla fine, perché il range d'età è quello. Comunque ti tocca, perché sono qui e perché no. Perché bisogna esserci. Poteva succedere anche ai nostri figli, che sono una a Berlino e una a Manchester. Un giro per il mondo. Sì, poteva succedere benissimo anche ai nostri figli. Poi tra l'altro sono anche compagni della stessa scuola, perché lei era a metà tra uno e l'altro e la conoscevano tutti e due. Una piazza strapiena anche per condannare ogni forma di violenza in cui a perdere la vita sono sempre solo persone innocenti. Per far sentire la mia presenza, la presenza della città, essere vicini alla famiglia e condannare completamente questi gesti di follia senza spiegazione. Per essere vicini alla famiglia e a tutte le persone che sono morte ingiustamente. Grazie.